Che anno pesante questo 2023 per chi tiffa il Milan, perché veramente è un anno sulle montagne russe continue, non si riesce a far quattro risultati di fila consecutivi positivi che subito arriva la fregatura. Arriva la fregatura perché oggi a Firenze si è rivisto il peggior Milan dell'inizio 2023, quello che insomma perdeva sbello da tutti, bene andata che comunque i danni si siano limitati, alla fine è un 2-1 un po' bugiato perché la Fiorentina ha nettamente meritato il risultato, bisogna essere sportivi e dirlo. Devo anche dire, non lo dico perché il rigore è stato fischiato contro il Milan, ci mancherebbe altro, però è secondo me deprecabile questa cosa che succede solo in Italia, che l'attaccante supera il difensore e poi regolarmente inchioda per farsi tamponare. Certo, il rigore c'è, non sto dicendo che non ci sia, lo dico a tutti i benpensanti che inizieranno a dire ah mi appello al fatto che il rigore non c'è, il rigore c'è, però è una roba che si vede solo in Italia, che l'attaccante quando supera il difensore anziché provare ad andare a segnare, preferisce farsi tamponare e prendersi il rigore. Una roba che negli altri, io oggi ho visto la Premier League tutto il pomeriggio, si fosse mai vista mezza roba del genere, veramente. E sapete che, come la penso sulla Premier League, per tanti motivi non l'amo. Detto ciò, il rigore c'è, c'è poco da fare, tu mori molto ingenuo e la Fiorentina giustamente ha vinto, legittimando poi il risultato con un secondo gol. Ciò detto, la riflessione è solo una, intanto fatemi dire che la cosa più bella di oggi è il minuto 13, quando i tifosi della Fiorentina e i tifosi del Milan si sono alzati in piedi ad applaudire Davide Astori, che insomma è un signore del calcio, con la S maiuscola, che ci manca ogni giorno ed è forse l'unica cosa che salvo in una serata davvero negativa. Detto ciò, io spero che il Milan oggi avesse la testa al Tottenham. E allora vi dico che, se questa è l'antifona, io ho visto anche il Tottenham oggi, per non fare mancare niente, ho visto un brutto Tottenham, però quantomeno rispetto al Milan ci ha provato, ha perso il campo del Wolverhampton. Però insomma, oggi il Milan proprio ti ha dato l'idea che senza Leao davanti non vada da nessuna parte. Anche perché Rebic è un ex giocatore, io non so più come dirvelo in tutte le salse, non capisco perché debba sempre essere rimesso in campo, perché onestamente ha anche stufato, non becca un pallone, è una cosa incredibile. E poi, insomma, le riserve sono quello che sono, adesso tutti diranno è colpa di Pioli, ho già letto sui social robe deliranti, va bene, poi però ditemi che, cioè, Orighi lo abbiamo visto tutti, è una roba impresentabile. Bakayoko ha un altro che chissà perché l'ha messo in campo, perché obiettivamente non ha neanche più i tempi del calciatore, ogni contrasto che fa è fallo per gli avversari, ma è logico che sia così, perché è uno che, cioè, non scende in campo praticamente da due anni. Lo stesso Adli, cioè, perché buttarlo nella mischia stasera? Tra l'altro Decatler è vero, poi era un po' sparito, però qualcosina di buono stasera lo ha fatto Decatler obiettivamente. Vabbè, dai, andiamo sulle pagelle che è meglio. Le pagelle sono molto semplici stasera, praticamente sono tutti bocciati, gravi insufficienza a Tomori, perché onestamente fa un salvataggio incredibile nel primo tempo, però poi nella ripresa combina una frittata incredibile. Messias, oggi proprio il fratello che non è capace rispetto a quello che abbiamo visto in ultime partite, ma anche Tonale Benassera, davvero sovrastati dal centrocampo della Fiorentina. Teo Hernandez, bene, a parte il gol, è uno dei pochi che ci prova. Lo stesso Decatler io oggi lo voglio promuovere, perché comunque non l'avrei tolto nel finale, soprattutto per mettere un Adli che non gioca mai. E poi il disastro è davanti, perché Giroud quantomeno si sbatte, però, insomma, non può essere certo sufficiente. Rebic è una roba imbarazzante. Ibrahimović non ha minuti, anche lì, togliere Giroud a che pro? Piuttosto mettili insieme Ibrahimović, perché onestamente non ha nessun senso. Piuttosto non mettere Orighi, veramente, e metti Giroud insieme a Ibrahimović. Togli Rebic, per carità di Dio, quello sì, ma onestamente li avrei visti volentieri insieme, anche perché la difesa della Fiorentina era ben strutturata fisicamente. E poi, insomma, Pioli non mi è piaciuto stasera, devo dire la verità. Adesso non riniziamo con i soliti Pioli out, però, ovviamente, Pioli stasera non mi è piaciuto, non ho capito molte scelte, credo che non sia stato capace di far capire alla squadra che c'era da combattere oggi prima di andare a Londra. Poi, è vero, sono il primo a dire che Londra è più importante, però io lo posso dire, seduto sulla mia poltrona, Pioli è l'allenatore del Milan e, onestamente, deve far passare un altro tipo di messaggio. Quindi, insomma, ripeto, il titolo è meglio oggi che a Londra, però, onestamente, se a Londra ci andiamo così, cioè, sarà una caporetto, veramente, un disastro totale. Ho sperato in Terracciano sì, tanti me lo scriveranno, ma Terracciano oggi ha fatto la sua partita, è bene ha fatto, si è confermato un buon portiere. Oggi, purtroppo, nessun regalo da parte sua. Chiudiamola così, va anche meglio. Il Milan è atteso mercoledì dalla prova del 9 di una stagione veramente, veramente negativa e solo questa partita la può salvare. Quindi, i giurizi per la stagione del Milan passano necessariamente da mercoledì. Vedremo. Ne parleremo, naturalmente, con le pagelle lunedì. Appuntamento a calcissimo, come sempre, per commentare anche questo Fiorentina Milan. Buona serata a tutti!